E' un giorno speciale oggi per Militello in Val di Catania, un giorno particolare nel quale viene conferita la cittadinanza onoraria a tre cittadine statunitensi. Si tratta di Jennifer Gares, la famosa attrice della top opera Beautiful, dove interpreta il ruolo di Don Logan, così come alla mamma Dolores e alla sorella Rebecca. E' un evento, lo vediamo da questa straordinaria cornice di spettacolo, c'è un corteo, le tre dame raggiungeranno l'auditorium San Domenico, dove verrà celebrata la cerimonia di conferimento di cittadinanza onoraria. Come dire, Jennifer is Sicilian. Sì, io sono siciliana, io sono siciliana, è vero? Gliel'abbiamo insegnata una parola in dialetto, la sai dire Jennifer? Quindi puoi dire alcune parole in dialetto siciliano? Amore, bacio. Questa volta sono stati i propri genitori a cercare, a ricercare le origini, è un fattore molto importante perché già da dieci anni presi questi contatti e avendo proprio il sangue siciliano hanno voluto che la figlia venisse premiata in questa città. Io le conosco da circa vent'anni, abbiamo un rapporto con loro stupendo, sono persone nobili, amano questa terra in un modo stupendo, la Sicilia per loro rappresenta il calore, in particolare l'amore per Militello, dove la bisnonna, che si chiama Sebastiana Tringali, nacque qui a Militello. Sì, è un evento eccezionale che va oltre le previsioni e devo dirti che anche la partecipazione non solo dei nostri concittadini ma anche da fuori è così numerosa che ci ha soppreso. L'evento credo che sia stato determinato da una preparazione che è fatta dall'associazione Sicilia Mondo insieme al Comune e poi tutti i concittadini che si sono organizzati, ma anche da questo effetto di fiction che fa, beautiful, questa cosa che giustamente devo riconoscere che la gente vede questa manifestazione televisiva. È chiaro che in Sicilia ci sono tantissime belle donne, avrai visto in giro, però tu comunque, come dire, splendi fra le stelle siciliane. Ecco, è un privilegio per te o anche imbarazzante? Visto tramite il calore che hanno espresso sua mamma e anche sua nonna e quindi anche questo calore siciliano si sente anche lei di essere siciliana, di essere anche passionale e quindi orgogliosa di esserlo. È un momento, questo, come dire, importante della tua vita. Che cosa auspica con l'avergli conferito questa cittadinanza per il suo futuro, a parte quello che... La cittadinanza di un'ora e questo fa in modo che ci sia un legame molto più forte qua e quindi che ritorneranno sempre a casa e che era Sicilia, appunto Militello. Allora, visto che non puoi dirci nulla di beautiful, però chi ha cercato di uccidere? Top secret. Top secret. Top secret. Ecco, tu lavori nel mondo dell'agroalimentare, ho saputo, nel commercio e qui si pensa tanto all'estero, all'America, per far conoscere i nostri prodotti. Quali sono i suggerimenti che tu dai per aiutare l'economia nostra? È l'alimentare che io penso che è più popolare della Sicilia. È l'olio, no? È l'olio e anche, per esempio, il formaggio, il fig, come si dice? Il fig, il fig, il fig, e anche l'orange, e anche l'orange specialmente, è di Sicilia, che è rosso, è buonissimo. A questo punto un saluto ai nostri cari telespettatori siciliani, in particolare di Jennifer. Greetings to everybody in Sicily. Thank you so much for watching Beautiful. It's been wonderful to come here, and I hope I come back soon again. Ciao. Ciao.